salve a tutti oggi farò il mio primo test di tiro sarà il test di tiro delle mp5 sparerò un bicchiere una lattina di birra dello yogurt e una lattina di coca cola però 10 20 colpi dopo vorremmo vedere il risultato premetto che come ho già detto nel video recensione la mp5 non ha l'attacca di birra posteriore che sarà abbastanza difficile mirare mi posizionerò a una distanza di 10 metri poi di 20 ci vediamo dopo qui bene ora mi posizionerò nella distanza di 20 metri ora mi posizionerò nella distanza di 15 metri ora mi posizionerò nella distanza di 15 metri bene questo è il risultato dai 10 metri vedete che la lattina è molto ammaccata non è riuscito a forarla comunque è molto ammaccata da 10 metri sarebbe dovuto riuscire quasi a trapassarla comunque fa lo stesso premessa questo fucile sto parlando dell'MP5 avrebbe bisogno di una molla nuova di una molla nuova perché questa qua è proprio secondo me andata il bicchiere invece sono stati tirati tre colpi mi sembra ed è sfasciato quello dello yogurt è appena bucato mentre la lattina di coca anche questa è abbastanza piegata ho tirato pochi colpi a questa comunque comunque è buono il risultato direi che sia dai 20 sia dai 10 è buono la gittata è intorno ai 35 mi sembra adesso magari vi rimetto le lattine tutte e proverò in un altro video a sparare dai 35 magari anche dai 40 da blocco soft tire è tutto quindi